Altra domenica di sangue sulle strade d'Abruzzo. È di un morto e due feriti il bilancio del drammatico incidente avvenuto ieri mattina sulla Statale 17 nei pressi della casa cantoniera di Pettorano sul Gizio. A scontrarsi sono state un'ape condotta da un anziano di 84 anni che dalle campagne circostanti si metteva lungo la carreggiata e una Fiat Panda con due giovanissimi a bordo che viaggiava in direzione Sulmona. Purtroppo a causa dei gravi traumi riportati l'anziano Giovanni D'Amico, ex vigile urbano, è deceduto nel pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona dove era stato trasportato in ambulanza assieme agli occupanti della Panda. Da chiarire la dinamica del sinistro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sulmona e i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta dalla procura della Repubblica di Sulmona immediatamente informata dell'accaduto. In ospedale è finito anche il figlio della vittima colto da malore dopo aver visto la scena dell'incidente. Vedendo l'impatto infatti deve aver subito temuto che potesse risultare fatale per il padre. Una tragica domenica per Pettorano. Non sono gravi in ogni caso le condizioni dei due ragazzi a bordo della Panda.